salve in questo video finale parliamo di un altro argomento importante da capire il bitrate di un video cioè il flusso di bit nell'unità di tempo quando registriamo su memoria il file oppure lo trasmettiamo o trasferiamo da qualche parte in streaming per esempio i calcoli iniziano in modo semplice ma poi diventano complicati e non li riporterò per il 4k abbiamo 4096 per 2160 pixel per 30 fotogrammi al secondo uguale 265 milioni di pixel al secondo lo stesso 4k 60 fotogrammi al secondo equivale a 530 milioni di pixel al secondo per il formato hd abbiamo 1920 per 1080 per 30 fotogrammi al secondo uguale 62 milioni di pixel al secondo lo stesso a 60 fotogrammi al secondo risulterà 124 milioni di pixel al secondo adesso ci sarebbe la trasformazione in bit per secondo infatti ogni pixel va espresso con i bit come qualsiasi altro dato in informatica in questo calcolo entra la quantizzazione adottata 8 10 16 bit eccetera il sottocampinamento di crominanza e le compressioni spaziali e o temporali in ambito professionale esiste le smtpe che è un ente che si occupa di creare standard per i video digitali fra cui anche suggerire i vari bitrate rivolgendosi all'ambiente pro si riferiscono all'interfaccia sdi che è capace di trasportare segnali non compressi in realtà oggigiorno displayport thunderbolt e hdmi 2 sono anche meglio come banda passante alcuni esempi di smtpe sono 1080p fino a 60 fotogrammi al secondo suggeriscano 2,97 gigabit al secondo cioè 371 megabyte al secondo 2160p a 30 fotogrammi al secondo cioè 4k suggeriscano 6 gigabit che equivale a 750 megabyte al secondo sono cifre impressionanti vero? bisogna capire che usare bitrate inferiori significa ricorrere a compressioni ma non è un dramma la maggior parte dei formati usati sono compressi senza fare i calcoli però dobbiamo mandare a memoria i bitrate per ogni risoluzione e profondità di colore per vedere alcuni bitrate comuni per i formati più usati andatevi a vedere su wikipedia posso citare solo qualcosa 4,5 megabit al secondo per il 1080p video usando come codec l'h264 sempre h264 e full hd anch'esso però a 60 fotogrammi al secondo consigliano 6,8 megabit al secondo mi fermo qui se no non finisco più ce ne sono troppi di codec e formati e bitrate suggeriti spesso i formati di file come per esempio dnxhd e prores hanno un loro bitrate caratteristico e non modificabile dovuto ai produttori cioè avid e apple alcuni esempi sono dnxhd a 60 fotogrammi al secondo e 10 bit sono impostati a 440 o 220 megabit al secondo dnxhd a 60 fotogrammi al secondo dnxhd a 60 fotogrammi al secondo a 8 bit invece sono impostabili a 440 oppure 290 oppure 60 megabit al secondo sempre dnxhd a 30 fotogrammi al secondo a 10 bit sono impostabili con 440 o 220 megabit al secondo infine come ultimo esempio dnxhd a 30 fotogrammi al secondo a 8 bit si deve usare o 220 o 145 megabit al secondo per l'apple progress invece possiamo citare a 30 fotogrammi al secondo 12 bit un bit reti di 500 megabit al secondo oppure sempre progressi a 30 fotogrammi al secondo a 10 bit si può impostare 220 o 147 o 100 megabit al secondo e così via bisogna anche tenere conto del bitrate quando trasmettiamo il video in streaming per non avere inceppamenti oppure quando guardiamo il video online o ancora quando scegliamo il dispositivo di memorizzazione su cui registrare i nostri filmati le schede sd per esempio se questi non reggono il bitrate del video non riusciremo a salvarlo ottenendo errori di registrazione anzi probabilmente la video camera si bloccherà rifiutandosi di lavorare con una sd non adeguata ripeto un concetto importante già detto precedentemente quando abbiamo a che fare con i formati video proprietari o non dobbiamo per forza studiarli e conoscerli bene troveremo così i bitrate imposti o consigliati oltre a conoscere anche compressione spaziale e di colore ed eventuali sottocampionamento di crominanza conoscendo il bitrate si può anche calcolare in anticipo lo spazio di archiviazione richiesto spazio occupato uguale bitrate per durata conviene esprimere il bitrate in byte per secondi invece che in bit per secondi perché siamo abituati a rappresentare le dimensioni di un file in megabyte o gigabyte in questo caso si dovrebbe parlare più appropriatamente di data rate e non di bitrate la durata invece è sempre in secondi in genere quando si parla di bitrate ci si riferisce ad una quantità costante si dice cbr constant bitrate è l'opzione che assicura il miglior risultato a meno che non si scelga un bitrate troppo basso e questa opzione assicura anche la miglior compatibilità con software e hardware di riproduzione però porta file più grandi si può allora ricorrere al vbr variable bitrate in cui il software riesce a cambiare il bitrate al volo abbassandolo per scene lente o con grandi zone omogenee oppure alzandolo quando serve una maggiore qualità se si fa il tutto in una passata il risultato è scarso anche se l'occupazione di spazio risulta minore se invece si fanno due passate si ottengano ottimi risultati durante la prima passata viene analizzato il filmato per capire quali sono gli intervalli che richiedono bitrate più o meno alti si parla di analisi delle ridondanze durante la seconda passata avviene la scrittura secondo le informazioni precedentemente calcolate lo spazio occupato è minore ma il tempo di rendering come minimo raddoppia in generale si deve evitare il vbr a una passata e decidere tramite buona conoscenza del filmato se usare cbr o vbr chupers spesso il due passate si usa quando siamo costretti a rispettare precisi limiti di spazio si dovrebbe anche tener conto del bitrate dell'audio e dello spazio che occupa ma non lo farò perché stiamo parlando delle sole immagini digitali altro argomento ancora ma prometto che l'ultimo riguarda ridimensionamento delle immagini abbiamo l'alternativa fra resize e l'interpolazione che può essere da un sampling o up sampling con il resizing si cambiano le dimensioni dell'immagine senza cambiare il numero di pixel originali si otterrà quindi una nuova immagine più grande o più piccola semplicemente con i pixel più grandi o più piccoli con la conseguenza di sgranare o comprimere l'immagine nella seconda immagine ho quadruplicato le dimensioni e si nota bene lo sgranamento è consigliabile usarlo solo nel ripinciolimento perché altrimenti si fa presto a deteriorare la qualità dell'immagine invece con il ricampionamento cambiamo la dimensione dell'immagine applicando all'immagine originale una nuova matrice raster i cui pixel restano delle stesse dimensioni ma il loro numero varia per interpolazione se si fa un up sampling cioè si aumentano i pixel vengano creati pixel per interpolazione se si fa un down sampling i pixel originali vengano mediati e ridotti sempre per interpolazione nel caso di creazione di nuovi pixel è facile capire dell'abbassamento di qualità a causa dei pixel risultanti dall'interpolazione che non hanno direttamente a che fare con i dati originali è quello a cui avevamo accennato dicendo che portare un'immagine ad una risoluzione più alta non aumenta le informazioni disponibili abbiamo solo una nuova immagine più risoluta ma contenente le stesse esatte informazioni di partenza poco male può essere una soluzione accettabile invece ho il down sampling e questo è un concetto meno intuitivo abbiamo una vera e propria distruzione di alcuni dati originali quando vengano mediati dagli algoritmi di interpolazione per ottenere un minor numero di nuovi pixel quindi questa è un'operazione ancora più distruttiva che comporta una perdita di dati non più recuperabili bisogna fare sempre molta attenzione quando vogliamo fare un down sampling per esempio quando vogliamo passare da 4k a 1920x1080 oggigiorno gli algoritmi usati sono complessi ed efficaci con il bc meglio del lineare per esempio ma è sempre meglio sapere a cosa si va incontro e magari mantenere un backup dell'immagine originale c'è un terzo modo di ridimensionare le immagini e solo nel senso di diminuzione delle dimensioni il cut out detto anche impropriamente crop in questo caso non si deteriora l'immagine originale perché non c'è né interpolazione né variazione delle dimensioni dei pixel semplicemente si taglia via una parte ottenendo una nuova immagine più piccola ma con i pixel restanti inalterati infine a chiusura di questo lungo excursus sulle immagini digitali qualche consiglio per perseguire la maggiore qualità ed efficienza possibile durante il workflow dei nostri lavori sono consigli ripresi dal libro di brinkmann 1 lavorare con risoluzione spaziale più alta di quella dell'uscita finale del nostro video serve a migliorare la resa in caso di crop di stabilizzazione che richiede l'eliminazione delle bande nere laterali che si sono formate e nei casi in cui vogliamo fare pan e zoom per esempio si può lavorare in 2,5k e poi uscire in full hd sarebbe ancora meglio il 4k ma in questo caso si deve stare attenti alla resa come abbiamo detto prima sinelera un programma potente e comodo da usare per questi scopi usando la camera e il proiettore nella finestra compositor 2 lavorare in floating point anche se partiamo da un filmato h264 a 8 bit molto compresso conviene sempre convertirlo in un file ad alta qualità per preservare la totalità dei dati iniziali per quanti pochi possano essere durante le successive lavorazioni infatti non perderemo informazioni con approssimazioni e arrotondamenti vari hardware permettendo ovviamente 3 informarsi se tutto il programma usato o solo alcuni dei suoi plugin supportano la virgola mobile in questo secondo caso durante il workflow si arriverà sempre al collo di bottiglia dell'intervallo 01 e dei relativi clipping e perdite di informazioni e da qui in avanti sarà sempre come lavorare a 8 bit sinelera può essere impostata lavorare a virgola mobile in fase di configurazione del progetto scegliendo rgb float attenzione a usare lo strumento gamma già la clip originale probabilmente avrà il suo gamma e applicandolo nuovamente potremmo avere risultati pessimi soprattutto se si lavora in floating point su immagini hdr cioè al di fuori dell'intervallo 01 infatti i pixel con valori compresi nell'intervallo diventeranno più scuri mentre quelli sopra 1 aumenteranno il valore esponenzialmente bruciandosi rapidamente o comunque in modo non predecibile stessi problemi si hanno con lo sharpening e con la scalatura delle immagini quindi attenzione se conosciamo la matematica dei plugins che stiamo usando possiamo cercare di semplificare e alleggerire il workflow unendo più filtri cioè formula in pratica in un unico script sinelera non sopporta gli script ma possiamo cercare di limitare il numero di plugins usando nemmeno ma con funzionalità maggiori per esempio usare blue banana per quasi tutte le operazioni di color correction e in parte anche di green screen e di estrazione di matte si possono trovare dei video sul mio canale di sinelera gg in realtà ffmpeg supporta gli script e quindi anche sinelera ma io non li so usare e quindi non ne parlo punto 8 roi regions of interest regione di interesse alcuni programmi purtroppo non sinelera permettono di definire usare all'interno del frame una regione rettangolare personalizzabile i calcoli dei plugins vengono effettuati solo all'interno di quest'area e non su tutto il frame con evidente risparmio di risorse in sinelera potremmo pensare di fare un crop della zona interessata e poi applicare i relativi filtri ma solo se siamo capaci in un secondo momento di ritornare alle dimensioni iniziali del progetto 7 pre compositing fare alcuni lavori pesanti all'inizio puoi renderizzare il filmato in un intermedio ad alta qualità e su questo continuare il lavoro si possono fare più tappe se conveniente visto la qualità non scade renderizzando più volte un intermedio digitale ma la cosa è da valutare attentamente perché i rendering sono sempre piuttosto lunghi nel video 15 bis ho consigliato come pratica utile se non addirittura necessaria di fare il denoise del filmato e poi creare l'intermedio digitale prima di proseguire con il workflow questo perché il denoise è particolarmente pesante una clip priva di rumore è però essenziale per color correction tracking stabilizzazione e anche mascherature otto e ultimo punto forse l'aspetto più importante è la fase di ripresa del filmato quindi a monte del post processing più la ripresa è pensata e impostata per il lavoro successivo e più questo risulterà veloce e di qualità se poi dobbiamo fare anche del compositing oltre che l'editing cioè dobbiamo unire insieme nello stesso frame varie immagini differenti allora l'omogeneità delle riprese in termini di illuminazione temperatura colore lunghezza focale dell'obiettivo prospettiva distanza e opposizione fra soggetto e sensore e infine scelta dell'esposizione diventano parametri fondamentali bene siamo arrivati alla fine se pensate sono stato troppo lungo e noioso dovete capire che ogni argomento che ho trattato sarebbe sufficiente a riempire un intero libro e non ho nemmeno trattato tutti gli argomenti possibili quindi siate clementi e tolleranti